applicato di un certo tipo di valutazione che è stata in qualche modo portata avanti, studiata e sperimentata in molti contesti e che è in qualche modo presente anche in modo sostanziale nelle indicazioni nazionali, è sicuramente quello di dare valore al ragazzo, alla ragazza, al bambino, alla bambina, fornire dei feedback costanti per l'apprendimento, per l'appunto, sviluppare le competenze, quindi questo porta con sé l'idea che c'è una progressione sostanziale in questo ragionamento e che può attraverso alcuni strumenti e alcuni tipi di relazione sostenere la dimensione della competenza. C'è anche tutta una serie di studi che ci portano dentro a questi primi significati anche alla comprensione che un certo tipo di valutazione, un certo tipo di strumenti, aprono, sviluppano alle cosiddette disposizioni della mente, ovvero alla costruzione di abiti mentali, potremmo dire, che potrebbero in qualche modo aiutare i bambini e le bambine a riconoscersi sempre di più competenti anche in atteggiamenti specifici, potremmo dire, i loro talenti e che vanno però sostanzialmente sviluppati nel corso del tempo, non sono dunque innati. Poi l'altro significato della valutazione inglobato dentro a questo tipo di ragionamento è chiaramente l'ambiente per, ovvero l'ambiente per l'apprendimento, l'ambiente in grado di fornire valore, di dare feedback e quindi coinvolge sostanzialmente anche l'idea di didattica che noi abbiamo. Tutto questo era poi ancorato nel vostro caso specifico ancora di più perché avete il curriculum verticale. In qualche modo, che cosa voglio rappresentare con questo velocissimo passaggio? Che c'era un'attenzione diciamo ad un certo tipo di valutazione anche precedentemente, che molto probabilmente a macchia di leopardo è stata portata avanti in alcuni contesti, di più in alcuni, di meno in altri, ma sicuramente un certo tipo di valutazione e quel certo tipo lo sottolineo, chiaramente può accompagnare anche in modo più efficace la rappresentazione che noi abbiamo del tipo di scuola. Alcune conseguenze di questo ragionamento, in modo molto veloce, chiaramente sono il curriculum verticale di scuola, la didattica coerente con quello che è significato tutto questo ragionamento e la valutazione di scuola, è chiaramente basata su un certo tipo di lavoro. In qualche modo l'esito di queste dimensioni sfociano nel profilo e nella progettazione soprattutto perché porta come conseguenza ultima la centralità, la famosa centralità di allievo e di allievo e di allieva. In qualche modo questa dimensione potremmo rappresentarla olistica o definirla in modo olistico che nell'insieme è chiaro che quello che tutti noi facciamo all'interno di uno sviluppo dalla scuola dell'infanzia fino alla fine della scuola media ma anche oltre è quello di avere in mente l'insieme, il tutto del bambino e della bambina e delle persone, degli studenti che sono in formazione e non solo come dimensione parziale di loro, chiaramente. Questo è un fatto noto però effettivamente non è così scontato che venga tradotto in situazioni didattiche coerenti con questo tipo di informazione. In qualche modo questo percorso contenuto nelle indicazioni nazionali, nell'interpretazione della valutazione, nell'idea di una didattica e di un certo tipo di ambiente di apprendimento sfocia in quel gioco di formula più allievo e meno insegnante sostanzialmente. Da questo punto di vista è chiaro che la conseguenza nel momento in cui metto l'allievo al centro porto via apparentemente un po' di insegnante nella presenzialità delle attività ma cambia ruolo sostanzialmente l'insegnante o meglio acquisisce un valore e la sua presenza molto più sottile, molto più nascosta, potremmo dire molto più educativa e formativa perché guida alla scoperta delle disposizioni, delle competenze, dei talenti eccetera eccetera eccetera. Diciamo che da questo punto di vista l'insegnante è meno sì sul pezzo presenziale, meno sulla cattedra chiaramente, ma è molto più presente nell'organizzazione di attività che sappiano portare al centro l'allievo. Questo non è così scontato, chiaramente magari per noi, per voi in modo particolare insomma lo è, però generalmente questo è un passaggio che molti hanno fatto in forma nominalistica, ovvero sono cambiati i nomi, sono cambiate le descrizioni, ma non sono cambiate le pratiche sostanzialmente. Allora se questo appunto quindi è successo tutto ciò dipende sostanzialmente, dipende da che cosa? Dipende da come ognuno, ogni docente e ogni team di docenti, ogni scuola ha in qualche modo lavorato nel corso degli anni, nel corso del tempo e interpreta sostanzialmente anche il ruolo e il senso profondo della scuola. Fortunatamente potremmo dire in un momento così difficile e sufficientemente drammatico come quello che stiamo vivendo sta chiaramente riemergendo che la scuola e le insegnanti sono fondativi e fondamentali anche della coesione sociale e dello sviluppo delle nuove generazioni, della cittadinanza eccetera eccetera e guarda caso quando il preside prima ci ricordava che dal 4 maggio cambierà ancora qualcosa, ancora di più si sente chiaramente la necessità di questo tipo di contesto. Dunque non tutti però l'hanno interpretato e quindi di conseguenza anche come istituzione e scuola quel più allievo e allieva e meno insegnante non ha avuto una conseguenza sostanziale, ci si è limitati molte volte la dimensione formale. Dunque andando ancora avanti il ragionamento ha portato che sì l'allievo e gli allievi hanno avuto una valutazione delle competenze, l'insegnante su questo il punto di domanda è diciamo con un doppio canale si è dovuto mettere in gioco e non sapeva come affrontare chiaramente in modo totale la dimensione della valutazione formativa con tutto quello che ne è conseguito in questi ultimi anni anche di interpretazione poco efficace di un certo tipo di valutazione e quando dico un certo tipo di valutazione mi riferisco proprio alla valutazione formativa e alla valutazione narrativa che sta dentro a questo grande filone diciamo della valutazione, ma anche per verso, per verso, per l'altro verso, il fatto che le competenze dell'insegnante da questo punto di vista sono sempre rimaste, tra virgolette, nascoste. Non ci si è presi cura perlomeno di valorizzare e di mettere insieme anche una ridefinizione del profilo professionale dell'insegnante al di là dei corsi di aggiornamento che sono stati fatti, moltissimi, però sostanzialmente non hanno prodotto, tra virgolette, quel cambiamento di interpretazione anche delle idee di scuola e delle prassi didattiche che sono la premessa per un certo tipo di valutazione. Per i ragazzi, per i bambini e le bambine, chiaramente questo invece ha avuto alcune tipi, qualche tipo di conseguenza. Per esempio, nell'organizzazione dei contesti per l'apprendimento sappiamo che se non vogliamo nominalmente cambiare nome della tipologia di attività che svolgiamo e quindi vogliamo mettere davvero al centro l'allievo dei processi di apprendimento, è chiaro che non possiamo contestualizzare, tra virgolette, quella didattica tradizionalmente intesa che vede al centro l'insegnante, non il ragazzo. Quindi il ragazzo deve essere proiettato, guidato chiaramente, ma proiettato in un mondo in cui il suo fare è la dimensione fondamentale. E da questo punto di vista, il contesto di apprendimento, più gli artefatti che vengono chiesti ai ragazzi, che viene chiesto di realizzare ai bambini e alle bambine, chiaramente determina il profilo finale che noi vogliamo costruire. Ed è su questo che si innesta il processo dell'autovalutazione con tutta la strumentazione connessa con il discorso delle competenze e quindi anche naturalmente con la valutazione di feedback dentro la quale appunto ci mettiamo la dimensione della narratività come restituzione di valore. Perché sottolineo questo aspetto, diciamo, che secondo me è importante? Perché è chiaro che l'elemento di valutazione narrativa o di strumentazione narrativa ha bisogno esattamente di tutte queste dimensioni precedenti, ovvero l'interpretazione di un contesto per l'apprendimento con un certo tipo di didattica, la produzione degli artefatti che siano riconosciuti e riconoscibili in qualche modo intenzionali e la formazione del profilo cosiddetto esplicito, perché c'è anche il profilo implicito che andiamo a formare. E su questo troviamo molto significato proprio nell'interpretazione della valutazione. Credo conosciate, sicuramente conoscete Maurizio Gentile, so che è stato lì, ne parliamo spesso, insomma, visto che è un amico, collega con il quale stiamo condividendo parecchie esperienze di ricerca un po', appena prodotto il libro, valutare per apprendere. Beh, questa è una conseguenza, diciamo, fondamentale di come un certo tipo di valutazione forma il profilo anche implicito e ci sono tutta una serie di ricerche che notano, dimostrano, fanno vedere come, anche se non chiediamo alcune attività, chiaramente queste, a partire dall'organizzazione del contesto di apprendimento, a partire dall'interpretazione che l'insegnante dà al contesto di apprendimento, ne consegue che, come esito finale, c'è anche la formazione di un profilo implicito, che diventa inconsapevole sia per il ragazzo, per lo studente, per l'allievo e sia per l'insegnante. Ed è su questa caratterizzazione, chiaramente, che il processo di autovalutazione diventa molto interessante, proprio perché permette, qualora ci fosse anche un implicito, di farlo emergere in reciprocità, sia per il bambino o la bambina, sia chiaramente per l'insegnante. Infatti, da questo punto di vista, è chiaro che il mio contesto di apprendimento, più gli artefatti, mi permettono di, mi dovrebbero permettere di dare valore all'apprendimento, dare dei feedback, sviluppare le competenze, sviluppare le disposizioni, costruire l'ambiente per la didattica e, in qualche modo, agganciare tutto ciò al curriculum verticale, nonché, da ultimo, costruire strumenti per la valutazione narrativa. Questo che cosa mi permette di dire? Che gli strumenti per la valutazione narrativa, certo, ce ne sono, possiamo tirarne fuori dalle esperienze, ma la cosa più efficace è sicuramente quello che, in qualche modo, avete tentato di fare già, avete già fatto, non tentato, che è quella di costruire anche strumenti specifici che rispondano, ecco qua, la dimensione al curriculum verticale e all'idea di scuola che sostanzialmente emerge da quella particolare comunità professionale che vi rappresenta e nella quale siete rappresentati chiaramente dall'insieme delle persone. Perché questa sottolineatura? Perché non c'è uno strumento migliore di altri, non esiste il perfetto strumento o lo strumento con la L maiuscola che vale per tutto questo, in qualche modo, certo, sono recuperabili e rintracciabili tracce, lo vedremo tra un attimo, però la cosa più importante è farli, tra virgolette, propri, ovvero co-costruirli in una prospettiva di appartenenza a quello strumento e al significato di quello strumento. Ecco qua il discorso dell'autovalutazione, dunque, perché questi strumenti mi servirebbero, in teoria, proprio perché devo costruirli dall'inizio, ad accompagnare costantemente il ragazzo, la ragazza, il bambino o la bambina, all'interno del suo percorso di sviluppo delle competenze e le disposizioni della mente. Se no, su che cosa do il feedback, punto di domanda? Questa è molto sensibile come attenzione, no? Quello che noi stiamo facendo sostanzialmente oggi è anche quello di recuperare un pezzo di storia, un pezzo di strada che comunque ha già avuto una sua partenza, ma si dovrebbe partire sì dallo strumento, ma insieme con tutto quello che ha a che fare, come vedete in quel quadrato rosso, sia con il contesto per l'apprendimento, sia con la conseguente definizione degli artefatti che vanno a guidare l'apprendimento e a giustificarlo, e sia conseguentemente alla definizione del profilo che idealmente vorremmo formare proprio in quella scuola lì, pensando a quei bambini e le bambine lì e non ad altri in modo ideal tipico. Allora, ecco perché per me è importante co-costruire gli strumenti, perché sono una, e quindi anche quelle delle potenzioni narrativi, naturalmente, perché sono una delle dimensioni che stanno dentro ai tre elementi cardinali, contesto per artefatto, quindi quello che chiedo di fare, di saper fare, di saper essere ai bambini e alle bambine, e al profilo finale al quale mi riferisco. Scusatemi, l'aggiornamento del profilo professionale da par suo, quando mettiamo in gioco tutte queste variabili, automaticamente, ecco qua la reciprocità, si sviluppa attraverso tre grandi aree, oltre a quelle che già conosciamo, insomma di saper progettare ambienti di apprendimento, di saper essere pertinenti nella scelta dei contenuti, nell'organizzazione didattica, nelle procedure, nelle metodologie. Oltre a tutte queste cose qua, che consideriamo, tra virgolette, dentro lo sviluppo normale del profilo professionale dell'insegnante, attenzione perché con l'autovalutazione delle competenze di feedback e con la costruzione degli strumenti per la valutazione narrativa all'interno di quest'area di significati, beh, per esempio, il saper comunicare per dare feedback, il sapersi autovalutare come docenti, e il sapersi riconoscere emotivamente, diventano atteggiamenti, diventano elementi, diventano, potremmo dire, competenze, che aggiornano non solamente in modo formale il proprio profilo professionale, ma in modo sostanziale, perché in quel momento lì, nel dare feedback ad un bambino specifico e ad una bambina specifica, mi metto davanti ad una condizione che mi richiede di mettermi in gioco. non è più semplicemente una relazione tra virgolette legata, diciamo, ad una forma, insegnamento, apprendimento generale, generica. È la relazione che io instauro con quel bambino lì e con quella bambina lì, in quel momento lì. e questo è un valore totalmente aggiunto, è un valore che dal mio punto di vista, per il mio credo pedagogico potremmo dire, perdonatemi, è un grande valore che l'insegnante assume dentro alla propria professionalità e chiaramente è da coltivare. Ecco perché parlo di aggiornamento professionale che diventa qualcosa di più del solo sapere disciplinare. Potremmo dire è un incarnare la dimensione educativa che sta dentro, si trasforma poi, si traduce poi alla gestione della relazione educativa dentro le classi e con i propri bambini. Questa non è banale, cioè dentro il processo di autovalutazione e dobbiamo considerare anche questa dimensione che potrebbe non essere rilevante in questo momento, siamo impegnati in altro, benissimo, però teniamola presente, tenetela presente perlomeno, nel senso che è una dimensione che sicuramente vi coinvolge. Ecco perché l'apprendimento e l'autovalutazione in questo caso sono reciproci e hanno delle conseguenze, non sono casuali. Per esempio, questa tridimensionalità che abbiamo visto prima con testi, artefatti, profilo, per esempio, espressi in quello che avete già realizzato voi o lo potremmo assumere come sintesi di un possibile percorso che potrebbe riguardare tutte le classi, e mi piace e so fare io a scuola, che cosa dà come risultato? Beh, dovrebbe dare come risultato la raccolta in itinere delle documentazioni che mostrano e formano quei processi, quindi quel mi piace e so fare, in che cosa il bambino o la bambina si riconoscono e uno fa la crocetta, ma come mai si riconosce in quel preciso processo e in quella precisa autovalutazione di sé, chiaramente. Ecco il secondo momento, di conseguenza, ecco l'importanza anche del ruolo dell'insegnante dentro e all'interno di questo percorso, di questo processo, ed ecco perché è importante co-costruire gli strumenti di rotazione, si evince, emerge, sale la relazione che si instaura tra insegnante, allievo e allieva da questo punto di vista, perché chiaramente sta all'insegnante entrare in quella relazione, se non avessimo documentazioni che mostrano e formano il processo per far sì che il bambino sia in grado attraverso delle domande pertinenti, aperte, eccetera eccetera, cose che voi conoscete benissimo, durante il dialogo finale far emergere chiaramente quello che lei o lui sanno e interpretano di sé in quel momento lì, però è altrettanto vero che potrebbero essere suggestioni, potrebbero potrebbero essere anche idee che vado a formarmi e che probabilmente se avessimo anche ecco l'importanza di costruire all'inizio un percorso di strumentazione che guida verso, se avessimo raccolto in itinere alcune documentazioni che mostrano e formano i processi o come insegnanti chiaramente e magari questo ce li abbiamo o e soprattutto è svolto dai bambini e dalle bambine in un certo momento dell'anno non necessariamente solo a fine anno chiaramente ma durante il percorso dell'anno avremo anche la possibilità di chiedere ai bambini e bambine di portarci a mostrare quelle idee quindi che cosa implicitamente in questo caso in modo implicito chiediamo al bambino o alla bambina di tirar fuori beh la sua percezione anche attraverso il fatto che questo tipo di valutazione non va a giudicare la persona ma va appunto a intervenire sui processi affinché essi diventano diventino il più possibile formativi e quindi metacognitivi per i bambini e le bambine quale valore maggiore potrebbe avere il percorso barra processo che chiediamo ad un bambino e ad una bambina chiaramente di andare a tirar fuori le cose a che gli sono più piaciute oppure che hanno dimostrato che lui sa fare bene alcune cose o meno bene delle altre e instaurare attraverso quel tipo di di azione un dialogo educativo una relazione significativa è chiaro vi ho messo la tabella lì tutto ciò va contestualizzato in base all'età condizioni e strumenti diversi naturalmente e su questo credo che non c'è molto da aggiungere ragionare con dei bambini di quinta probabilmente chiedere a loro di tirar fuori di andare un po' ritroso anche sulle loro esperienze probabilmente potrebbe essere più semplice che non con i bambini le bambine magari che sono appunto in prima che hanno bisogno di strumenti di attenzione particolari eccetera eccetera ma comunque cogliamo nel senso poi è chiaro che tutto ciò una volta che è armonizzato dentro ad un percorso di scuola essendo di scuola voi troverete anche le connessioni tra una classe e l'altra tra uno sviluppo e l'altro e anche potremmo dire tra un ordine di scuola e l'altro ordine di scuola certo che dobbiamo contestualizzare rimane l'attenzione a contestualizzare in base all'età perché poi questo ha delle conseguenze allora se questi ragionamenti sono sono alla base diciamo di che cosa significa strutturare delle strumentazioni narrative che vanno a interpretare alcuni tipi di valutazioni è chiaro che per esempio l'autobiografia cognitiva sta dentro questo processo più ampio di valutazione che assume alcuni significati particolari e per esempio nella ricerca queste quattro questi quattro momenti monitoraggio autovalutazione apprendimento e comunicazione sono caratterizzanti proprio la valutazione narrativa ovvero se dovessimo dire quali sono gli elementi i pilastri che identificano una valutazione narrativa il fatto che essa può monitorare lungo l'arco di un percorso mensile quadrimestrale annuale l'attività del ragazzo del bambino della bambina chiaramente svolge la funzione di autovalutazione diventa apprendimento e poi questo è l'elemento molto interessante che è la conseguenza del portare al centro il bambino e la bambina l'allievo quindi rispetto alle slide precedenti più allievo meno insegnante eccola qua comunicazione è chiaro che il bambino deve comunicare deve essere messo in condizione di poter rappresentare se stesso di poter andare oltre la semplice etichettatura che viene dal prendere atto del suo voto finale o del giudizio finale chiamatelo come volete e quindi viene messo in una condizione di poter monitorare costantemente il proprio atteggiamento di autovalutarsi di apprendere e di saperlo comunicare in modo pertinente per un attimo se pensate alla reciprocità anche per l'insegnante questi strumenti sono di monitorare la propria attività di autovalutarsi rispetto al modo attraverso il quale si relaziona con i bambini e le bambine a quanto lui sta apprendendo nella sua professionalità rispetto alle metodologie e di come sa migliorare o evolvere la propria comunicazione con i bambini chiaramente ma anche magari con i colleghi anche con gli insegnanti e così via ma sicuramente con i bambini quello che mi interessa farvi notare è che questi pilastri diciamo che sono riferiti alla valutazione narrativa sono e quindi all'autobiografia cognitiva sono anche quelli che permettono che permetterebbero all'insegnante di svolgere verso di sé insieme con i propri colleghi di team magari o con gli altri la medesima operazione ovvero essere anche noi utilizzatori della valutazione narrativa che facciamo con i ragazzi con i bambini e le bambine anche per per evolvere potremmo dire per autovalutarci nel nostro sviluppo professionale all'interno del nostro anno scolastico per esempio questa è una cosa molto interessante perché ha a che fare anche in questo caso con l'autobiografia cognitiva degli insegnanti che è strettamente correlata a titolo di esempio ma giusto per darvi un'informazione generale moltissime attività di ricerca sullo sviluppo professionale degli insegnanti oggi si basano sull'autobiografia ce ne sono ormai in atto anche in Italia insomma parecchi colleghi e parecchie università con i quali stiamo collaborando si sono ormai da tempo indirizzati verso questa pratica come pratica formativa e effettivamente stiamo riconoscendo tantissimi vantaggi e pregi pensate per esempio al far raccontare quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui per lei e perché farlo esprimere sulle difficoltà che ha incontrato in che modo le ha superate far descrivere la successione dell'operazione compiute e tutto quello che voi conoscete chiaramente è tutto il valore della valorazione narrativa ancora di più se lo uniamo alla possibilità di far riconoscere pezzi artefatti di esperienze che dimostrano questo tipo di elementi che attraverso le domande o le sottolineature o la guida che l'insegnante ha durante il corso dell'anno o nei momenti identificati come necessari per la valutazione narrativa tira fuori fa tirar fuori ed è anche interessante ve lo faccio notare perché io l'ho provato su di me è chiaro insomma che a me è stato molto utile quando io mi pongo davanti a queste domande alla fine di alcuni dei corsi che svolgo o delle attività di formazione anche quelli universitari ma quelli anche diciamo più canonicamente intesi di formazione degli insegnanti beh quando io mi pongo quel tipo di domande beh vengono fuori parecchie cose personali individuali che mi fanno rispecchiare mi fanno vedere anche i momenti di difficoltà che ho io non che hanno gli altri e che si esprimono attraverso magari un chiedere un non chiedere il anche il modo di dire di di accettare le sfide di non accettarle tutto questo chiaramente serve almeno a me è servito mi serve tuttora quando me lo me lo pongo a passare attraverso quelle quattro fasi monitoraggio autovalutazione apprendimento comunicazione allora da questo punto di vista capiamo ma ci serve solo per risottolinearlo ancora una volta che la valutazione attraverso la narrazione attraverso la narrazione assume una funzione metacognitiva e di guida quindi potremmo dire le autobiografie cognitive sono la forma che potremmo interpretare come elementi diciamo di scenario complessivo di diciamo potremmo chiamarlo di una di un pezzo di biblioteca di una di una di una insomma di alcuni cubi che abbiamo nelle nostre biblioteche che sono riempiti chiaramente da questa categoria della valutazione narrativa allora io ho fatto adesso andiamo più nel concreto insomma questi ultimi 15 minuti insomma allora è chiaro che per esempio sul tempo scuola e sull'attività sperimentata nella primaria abbiamo avuto avete avuto un primo quadrimestre nel quale avete utilizzato le schede mi piace e so fare o io a scuola e questo diciamo sono degli strumenti che hanno in qualche modo sono stati utili a implementare avviare un certo percorso sperimentale chiaramente io do per scontato che dentro a quelle schede ci siano le riflessioni e le pratiche sull'ambiente di apprendimento ambiente costruito per l'apprendimento do per scontato che ci siano i collegamenti con il curriculum e do per scontato che nella vostra mente ci siano dei profili perché quelle schede rappresentano esattamente nei contenuti o nelle cosiddette competenze trasversali un certo tipo di percorso che in qualche modo avete chiesto di fare in quel momento lì ai bambini e alle bambine perché dico questo perché una buona norma della valutazione in generale chiaramente ce l'ha detto anche Lucisano nell'incontro nel webinar quando l'abbiamo ascoltato beh io posso valutare solo quello che tra virgolette sperimento faccio sperimentare dentro all'esperienza scolastica non posso andare a valutare qualcosa che non ho esposto o se lo faccio devo essere consapevole che è un in più è un'aggiunta che magari mi può anche dare esiti positivi ovvero le scoperte che posso fare di un bambino o di una bambina sono effettivamente anche quelle che potrebbero venire fuori come elementi sconosciuti prima ma vengono fuori lì certo questo può capitare ed è normale che capiti però normalmente è importante che tutto l'impianto che io costruisco ecco perché è importante le schede o gli strumenti di valutazione costruirli prima perché poi alla fine sono la sequenza logica e quindi possono essere un percorso che ha fatto un insegnante e rappresentano per il bambino quello che lui dovrebbe iniziare a scoprire è chiaro che abbiamo un punto di domanda per la parte finale e stiamo ragionando su questo in questo momento per il 2021 si vedrà in qualche modo gli esempi che vi ho messo di lato e che adesso andiamo in qualche modo a significare velocemente potrebbero rappresentare qualcosa che potremmo mettere in piedi per sfruttare tra virgolette utilizzare questo tempo al fine di portare a compimento o comunque iniziare a ragionare poi le scelte chiaramente le fate le farete voi su come traslocare potremmo dire una vecchia idea di valutazione facendola diventare nuova sostanzialmente in tutte le classi o comunque in tutta la scuola primaria prima di passare all'esemplificazione di alcuni di quei costrutti di quegli strumenti io ho provato chiaramente in modo parziale e non compiuto avrei avuto bisogno di dialogare questo è proprio è un esempio di come anche a posteriori sia una valutazione tra virgolette formativa questa che sto facendo su di me chiaramente nel senso che con le vostre con le colleghe che hanno realizzato queste schede è chiaro che un dialogo si apre anche se a distanza ma un dialogo anche che va a interpretare alcune caratteristiche immagino che che siano note per cui non è che però insomma ho fatto un esercizio ecco mi sono messo tra virgolette la prova ho fatto un esercizio ho preso le schede vostre l'ho detto e mi sono chiesto che cosa vanno a tirar fuori e a far tirar fuori al bambino e alla bambina quel tipo di scheda quando un bambino e la bambina si autovalutano con quelle schede che cosa emerge quali sono le rappresentazioni tra virgolette che ci sono e che magari le ha chiare l'insegnante e in quali modi e qua apro chiaramente il dibattito poi nel senso che sono molte cose che io non so sono andato a interpretazione e posso aver sbagliato totalmente però quali sono le idee che l'insegnante o le insegnanti che hanno agito quel tipo di strumentazione avevano quando l'hanno costruito no? Quale tipo di coerenza immagino che c'era c'è stata nell'ambiente di apprendimento nel profilo eccetera detto tutto ciò ho provato a dire allora quello che secondo me da quegli indicatori che sono la seconda parte o chiamiamoli anche ancore che l'insegnante ha voluto porre come esempio per il bambino e la bambina in quella scheda che cosa si potrebbe vincere per esempio si potrebbe vincere che dentro lì aiuto so aiutare gli altri o aiuto a comunicare adesso ce l'ho aiuto i compagni perdonatemi aiuto i compagni chiedo aiuto lavoro con gli altri eccetera potrebbero essere delle ancore degli indicatori di esempio per la dimensione o la competenza se vogliamo chiamarla così del cooperare ancora chiedo la parola guardo mentre parlo oppure ascolto gli altri sono tutte probabilmente sono tutti indicatori ancori e ancore della dimensione del saper comunicare in modo pertinente in modo efficace oppure sistemo i giochi comuni finisco i lavori in tempo potrebbe essere una dimensione dell'essere responsabile o dell'autonomia se vogliamo identificare lì gioco con tutti oppure so c'è un altro un altro paio adesso che hanno a che fare con relazionarsi per esempio l'essere autonomi potrebbe essere rappresentato da quegli indicatori ancore so vestirmi so lacciare le scarpe eccetera in sintesi al di là di questo esercizio ripeto incompiuto incompleto volutamente anche perché non volevo interpretare troppo però ci dà la dimensione immagino di come nella mente e nell'esperienza di quelle insegnanti di quegli insegnanti che hanno costruito questo tipo di scheda ci fosse un'idea da dare a cui dare valore per esempio do valore al cooperare do il valore al comunicare do il valore ad essere responsabili do il valore al sapersi relazionare do il valore ad essere autonomi dentro quelle schede chiaramente e lì le avete ben specificate ci sono anche il fatto che magari non posso anche dire che non è che proprio aiuto sempre gli altri magari ogni tanto gli rompo anche le scatole oppure gli faccio gli faccio perdere tempo eccetera 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 ovvero dentro a quelle dimensioni c'è quindi la possibilità di raccontarsi di verificare le difficoltà in modo corretto e quindi l'insegnante sa far cogliere soprattutto che cosa è importante poi vediamo come lo fai quando lo fai perché lo fai eccetera eccetera quale difficoltà hai avuto eccetera eccetera però nel frattempo quello che viene ad evidenziarsi è il valore che voi date ad alcune dimensioni non chiamiamo le competenze chiamiamo le dimensioni del profilo da formare ecco secondo me questo è una cosa importante io leggo interpreto che quelle dimensioni selezionate e scelte sono delle dimensioni di un profilo che intendiamo importante che vogliamo valorizzare che vorremmo alla fine di 5 8 13 15 anni di 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 stare dentro le mura di una scuola di una scuola almeno vedere formate in qualche modo abbiamo sicuramente un'idea diciamo anche di cittadinanza abbiamo un'idea di società abbiamo un'idea di che cosa e di come dovremmo stare per poter sviluppare queste dimensioni mi pare che sia coerente però mi pare che sia e quindi condivisibile almeno da parte mia però è altrettanto vero che occorre evidenziare come queste schede implicitamente guidano questa cosa sull'altro versante quella del mi piace e so fare abbiamo sostanzialmente la medesima situazione se io vado a leggere gli indicatori e le ancore scrivo lettere sillabe parole frasi beh è chiaro che quella dimensione del profilo è saper scrivere no leggo parole so riconoscere la destra o so i giorni che cosa avviene prima che giorno avviene prima ha a che fare con un orientamento nello spazio nel tempo il contare lo scrivere contare oggetti ha a che fare con numerare sono numeri e colori in inglese ha a che fare con la dimensione della dimensione della lingua 2 l'essere consapevoli mi piace leggere mi piace scrivere mi piace contare mi piace ascoltare beh posso andare male nello scrivere magari perché sono arrivato a saper scrivere solo parole ma mi piace scrivere quindi probabilmente è un atteggiamento da valorizzare da portare avanti da considerare per esercitarsi e per esercitare quel tipo tra virgolette di disposizione della mente e degli atteggiamenti e dei talenti che i ragazzi hanno allora in sintesi e chiudo questa parte prima delle ultime due slide diciamo esemplificative di altro e per me è molto chiaro che tutto quello che c'è dentro a questa a meno scusatemi mi parrebbe di aver chiaro che tutto quello che c'è dentro questa scheda ha a che fare con il profilo di uno di un bambino di una bambina che nell'arco del tempo viene valorizzato di facciamo fare delle esperienze di apprendimento viene tra virgolette incontrato attraverso la valutazione narrativa misurandosi lui con questi strumenti quindi autovalutazione e quindi restituiamo totalmente la dimensione della consapevolezza questo è molto interessante molto coerente chiaramente ed è quello che alla fine funge da metro da misura per chi? per il bambino è lui che si valuta lì dentro chiaramente però attenzione che c'è un'idea comunque a cui diamo valore che è la scelta delle dimensioni allora nelle ultime due righe evidenziate ci sono le dimensioni previste dalle linee guida sulla valutazione che sono state pubblicate al 31 di gennaio del 2018 la famosa insomma circolare sulla valutazione sulla sì sì sulla valutazione proprio del curriculum allora e lì emergono in modo molto interessante alcune coerenze con quello che avete già evidenziato voi vi cito solo alcune alcune parole insomma l'essere responsabili il partecipare il cooperare l'avere consapevolezza l'essere autonomi lo stare in relazione la creatività ovvero sono tutte dimensioni diciamo che sarebbero indicate come guida per la valutazione in quel caso lì finale sappiamo già che però e questo è l'altro valore del come mai è importante connettere tutto ciò con gli strumenti iniziali capite che tutto quello che voi avete costruito già con questi strumenti è guida dal mio punto di vista quindi non posso fare la valutazione o la valutazione narrativa solo a fine anno scolastico chiaramente diventa un lavoro che rischierebbe di essere ridotto nella sua portata e nella sua potenzialità anche autovalutativa proprio perché richiamiamo questi quattro momenti monitoraggio autovalutazione apprendimento comunicazione che sono in itinere e allora con queste premesse vado a farvi delle proposte chiaramente di ragionamento ma non adesso che cosa potremmo fare sostanzialmente giunti a questo punto verso dove potremmo andare all'interno della scelta di strumenti narrativi in queste settimane come abbiamo lavorato per le prossime settimane come lavoreremo alla fine dell'anno a giugno come valuteremo dal punto di vista dell'autovalutazione che tipo di autovalutazione potremmo far emergere alla fine di questo anno scolastico allora lì ci sono alcune proposte io ne ho scelte due però ce ne potrebbero essere molte perché lo stile è un po' quello il diario di bordo e il digital storytelling o lo storytelling ce ne sono due perché rappresenterebbero la necessità di narrare quindi l'obiettivo che noi potremmo darci è essere far sì che i bambini e le bambine diventino narratori della loro esperienza che hanno vissuto in questi in questi mesi e che vivranno per le prossime settimane chiaramente recuperando quegli indicatori che avete già quelle ancore che avete già evidenziato precedentemente magari selezionandone alcune se desiderate per avere continuità e comunque diciamo una ricostruzione a posteriori delle attività potrebbe comunque aiutare i bambini e le bambine a riconnettere facendo diventare quel tipo di attività vedi per esempio il diario di bordo o il logbook più o meno è la stessa cosa dipende come lo conoscete o lo storytelling cartaceo o il digital storytelling se qualcuno ha la possibilità per i più grandi magari di utilizzare questo tipo di forma di formula diventa anche un compito tra virgolette non dico finale però diventa un compito complesso che potreste immaginare di iniziare a co-costruire durante queste settimane per avere poi alla fine anche un'idea di quello che il bambino e la bambina hanno pensato di aver fatto e o meglio hanno anche immaginato di aver fatto realmente traducendolo in una esperienza che va narrata è chiaro che lì ci vuole la costruzione delle domande di alcune domande guida che potreste ipotizzare dentro e insieme con gli artefatti lo storytelling è la stessa la stessa dimensione addirittura lo storytelling al di là potrebbe essere diciamo amplificato anche con la produzione e l'utilizzo di alcune di alcuni specifici strumenti nello strumento per esempio il fumetto la fotografia il disegno il dipinto sono tutte rappresentazioni che potrebbero narrare una storia quindi far narrare una storia ai bambini che dia a loro evidenza di quello che hanno realizzato in modo tale da avere valore come potremmo e chiudo immaginare un percorso perché si tratta sostanzialmente anche adesso di immaginare un percorso da qua alla fine chiaramente se lo desiderate lo assumete come ipotesi per esempio sarebbe interessante lavorare sulle attività svolte e richieste nel primo e nel secondo quadimestre in modo particolare nel secondo attraverso la DAD che cosa abbiamo già chiesto di fare chiaramente che cosa abbiamo chiesto di realizzare che cosa abbiamo chiesto di ascoltare per esempio ho visto nel vostro sito di scuola che tutta una serie di proposte didattiche molto interessanti insomma molto creative anche dal punto di vista della didattica beh hanno sicuramente avuto effetto nei bambini tanto che almeno leggendo quello che avete scritto ci sono state molte restituzioni hanno mandato email eccetera dunque in qualche modo c'è una possibilità di coniugare le attività svolte che avete svolto voi come insegnanti come classi in questo periodo di dad unito alle richieste la parola richieste non è banale è quello che voi avete diciamo sensibilmente magari non avete detto si dovete farlo per forza però alcune richieste le avete fatte esplicite alcune implicite che potrebbero comunque aiutarci a capire a posteriori qual era il percorso profilo che vi immaginavate scegliendo quel tipo di attività e quelle proponendo quel tipo di attività e scegliendo quel tipo di richieste e questo è un primo momento una prima annotazione un esercizio di annotazione probabilmente l'avete già pronto non occorre neanche neanche farlo neanche aggiungerci cose insomma ecco nella riprogettazione che avete fatto questa poteva già essere questa attività rientrerebbe già a pieno titolo la cosa aggiuntiva potrebbe essere dentro quelle attività che tipo di dimensioni di profilo o di competenza insomma chiamatelo come oppure scelte che voi avete fatto pensate di aver esplicitato o attraverso tutto ciò avevate in mente no individuando quel tipo di attività quel tipo di dimensioni per esempio il saper ascoltare certo in questo caso il saper ascoltare non si è tradotto in un ascolto il mio compagno ma magari si è tradotto in un ascolto la maestra o il maestro che mi hanno raccontato delle cose attraverso e hanno sortito nei bambini un esito ovvero vi hanno restituito delle attività pertinenti bene queste sono per esempio faccio solo degli esempi delle dimensioni che voi potreste aver selezionato implicitamente o esplicitamente così come l'autonomia la capacità di organizzare la disciplina di poter organizzare le informazioni che voi avete date avete dato e richiesto attraverso degli artefatti che vi hanno restituito i bambini e le bambine in qualsiasi forma chiaramente non ce n'è una che vale più delle altre bene questa potrebbe aver dato l'esito di esservi focalizzati sulla dimensione dell'autonomia per esempio terzo passaggio sugli artefatti già prodotti dunque quelli che hanno già prodotto bambini e bambine durante questa fase e che immaginate che tipo di indicatori potrebbero essere visti all'interno di quelle vostre attività ovvero adesso in questo momento storico con dal 3 marzo dall'8 marzo quello che è stato sono passate 6 settimane e adesso per le altre 8 o 5 che verranno che tipo di indicatori potremmo individuare come quelli che avete individuato qui in grado di essere guida per una possibile rilettura finale del loro saper stare dentro questo momento e quarto momento la scelta degli artefatti narrativi da realizzare chiaramente quindi storytelling piuttosto che diario di bordo piuttosto che autobiografia con le foto piuttosto che utilizzo dei disegni invenzione di una fiaba ne avete fatti ascoltare molte in questo periodo potrebbero essere artefatti narrativi che mettono però al centro l'esperienza del bambino e della bambina la loro narrazione di che cosa hanno imparato o che cosa hanno o in che cosa si sono migliorati in questo periodo magari a partire da alcuni di quegli indicatori oppure di aggiungerne degli altri che potreste eventualmente individuare dopo che avete riflettuto sulle attività svolte e su quello che avete richiesto e chiesto i bambini e le bambine da ultima una comunicazione la comunicazione scelta con allievi ed allieve potrebbe diventare chiaramente un elemento intermedio nel senso che tutto ciò va comunicato prima in questo senso ai bambini e le bambine i quali possono trovare significato e attribuire significato a questa richiesta e poi passare alla realizzazione di questa richiesta per finire magari con un confronto meet individuale o di gruppo o di piccolo gruppo o insomma come meglio potete organizzare adesso lì chiaramente i tempi dipende però potenzialmente per quanto e laddove è possibile avere questo confronto questo incontro che come già avete fatto alla fine del primo quadrimestre potrebbe dare valore attraverso un incontro anche magari ridotto in forma digitale o mediato appunto a tutto quello che andrete a costruire in questo momento ecco mi pare che questo potrebbe essere anche sufficientemente libero per voi in questa situazione ovvero l'idea della narrazione degli strumenti narrativi viene mantenuta gli strumenti che possiamo costruire dico possiamo qualora chiaramente vogliate vogliate farlo insieme insomma ecco io su questo insomma non mi tiro indietro nel costruire insieme caso mai ma insomma salva la vostra autonomia prima di tutto potrebbe diventare un modo appunto per guidare anche le attività per essere consapevoli se noi riuscissimo a se voi riusciste a costruire una un set di ancore come avete costruito precedentemente unite a delle dimensioni le comunicate ai bambini tra un paio di settimane più o meno insomma e permettete e vi permettete così e permettete loro così di nello svolgersi no dei mesi delle settimane che sono avanti in avanti di costruire un prodotto che a questo punto diventa il prodotto di autovalutazione del bambino e della bambina beh sarebbe anche poi interessante perché gli date quell'autonomia le date o gli date quell'autonomia che poi potete valorizzare e potete recuperare nel confronto finale e individuale chiudo velocemente giusto per correttezza insomma mi sento insomma di darvi questa questo è tutto il percorso che come diceva il preside all'inizio abbiamo strutturato nelle scuole nelle mattarella tutto il percorso che abbiamo realizzato sostanzialmente va in qualche modo ad essere coerente con questa impostazione per dare valore a quello che viene fatto con i bambini e le bambine con i ragazzi e i ragazzi in questo caso l'idea eccola qua ve la aggiungo ve la noto lì è chiaro che il famoso portfoglio che sarebbe la naturale conseguenza di tutto questo trova valore in questa dimensione anche nella vostra esperienza chiaramente che andrete perché la raccolta degli strumenti la raccolta degli artefatti diventa una guida alla raccolta e alla costruzione e alla autocostruzione del portfoglio che non è qualche cosa di esterno per no come se vi ricordate insomma insomma per chi c'era quegli anni del famoso portfoglio insomma è stato interpretato in modo molto restrittivo e direi quasi ingabbiante in realtà il portfoglio è uno degli strumenti di contenimento contenimento nel senso di contenitore della valutazione narrativa è nato per quel motivo lì per la rappresentazione per lo studio di quello che si sa fare di quello che si vuole migliorare e di quello che rappresenta la mia esperienza di apprendimento oggi forse e nel vostro caso in modo particolare ne trovate pieno significato profondo dal mio punto di vista almeno io credo insomma a quello che avete fatto per cui insomma sicuramente è una possibilità se considerate questo con gli strumenti digitali chiaramente potrebbe diventare anche una forma ulteriore di facilitazione ed è in totale autovalutazione dei bambini delle bambine ed è una cosa bellissima vedere i bambini e le bambine che mettono via durante l'anno perché devono in qualche sanno che poi alla fine dovranno render conto tra virgolette di quello che fanno ma anche di quello che si inventeranno cammin facendo senza dirlo all'insegnante ne mettono via mettono via alcune riflessioni alcune attività che tirano fuori alla fine dicendo maestra io ho fatto anche questo e lo stupore lì chiaramente emerge ed è il senso di quello che in molte in molte occasioni voi avete fatto notare questi sono gli gli indicatori tra virgolette le ancore che i vostri colleghi della scuola media hanno selezionato e non useranno tutti chiaramente però diventa questo anche promemoria non tanto per la valutazione di quest'anno diventa sì promemoria di quest'anno ma non tanto per renderlo tutto ma per guidare la progettazione del prossimo anno è chiaro dunque quali scelte finali come team e chiudo questo adesso diventa un po' un percorso che potremmo che potreste che potremmo realizzare da qua a qualche settimana scusatemi ma spero di essere stato chiaro grazie per dell'intervento poi mettiamo a disposizione anche le slide certo il preside si è disconnesso quindi secondo me non si dite per questo grazie a tutti Grazie.